Elementi giovani, ma di sicuro affidamento, ne sono convinti in società nel Ragusa dopo l'annuncio di tre nuovi rinforzi. Si tratta dei centrocampisti Andrea Censori e Alberto Felici, con esperienza anche in Lega Pro, e del difensore Dante Gagliardi già alla fermana in Serie D. Alla luce di questa situazione, l'organico verrà dunque sfoltito e si parla di una decina di giocatori col foglio di via. Intanto è per il neotecnico Simone Rughetti, che ha bagnato l'esordio domenica sulla panchina azzurra con una vittoria e cominciata una settimana sicuramente più serena rispetto alle precedenti e con i giocatori che hanno saputo domenica far bene, nonostante il clima della vigilia non fosse particolarmente tranquillo. Per quanto riguarda poi i famosi stranieri, potrebbe esserci un ripensamento della società e quindi potrebbe cambiare qualcosa nelle strategie di tesseramento e potenziamento dei ranghi, soprattutto alla luce delle nuove operazioni di mercato. Bisognerà quindi dare una sfoltita alla rosa, ad oggi abbastanza nutrita, anche per non creare illusioni verso chi vorrebbe giocare e soprattutto per non ingenerare un clima di competizione molto acceso. La società azzurra intanto si gode Arturo Mele, appena ventenne, il quale con i suoi tre gol in due partite è diventata subito la star della formazione iblea.